Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. Buonasera, benvenuti a questo nuovo numero di Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento giornalistico. Io qui accanto a me ho il dottor Giovanni Sniaolin che ci parlerà di economia, finanza, insomma dove vanno a finire somme elevate di denaro. Mi viene in mente ad esempio l'Isis che in poco tempo si è così organizzato. Vediamo dalle immagini delle tv satellitari, le all news che sono attrezzati con armi fino a sopra i denti. Insomma sono pieni, sono veramente attrezzati, insomma anche come camionette, come modo di spostarsi. Tutta attrezzatura nuova, addirittura le divise nuovissime si intravedono. Allora qualcuno, il sospetto, ha finanziato questa cosa, questi pazzi e criminali, tra l'altro perché vediamo che cosa combinano. La gente poi scappa via, abbiamo il fenomeno dell'immigrazione verso l'Europa, quindi c'è una situazione di destabilizzazione, se così possiamo dire. Allora c'è sempre di mezzo il denaro. Cosa possiamo dire? Poi chi fabbrica il denaro, quelle industrie non vanno mai in crisi. C'è da fare una riflessione qui? Sì, intanto buonasera a tutti. Tu tocchi il problema in modo preciso. Cioè che è questo? Le multinazionali fanno i profitti, in questo caso vendendo armi, e poi creano, quello che stanno creando, disastri nel mondo e poi noi ultimi, quelli che alla fine pagano le tasse, pagano tutto, scoppiano le contraddizioni. Cioè qual è la contraddizione? Che migliaia di persone che scappano da una situazione di guerra vengono, almeno sperano di venire in un posto dove non muoiono. La contraddizione è che ci invadono nel senso buono della parola perché anche noi saremmo in quelle situazioni se ci fossero situazioni di guerra nel nostro paese perché tutti vogliono salvarsi la loro pelle. Ma il problema è questo, come tu dicevi. Per salvare del profitto a chi ci guadagna molto nella vendita delle armi poi mandiamo un attimo nel dettaglio, diamo qualche dato. Per non bloccare questi profitti si creano queste contraddizioni. Queste contraddizioni che poi sono, guarda caso, fatte proprie da alcune forze politiche per metterci uno contro l'altro. Il più povero contro il meno povero perché il meno povero, vedendo il povero, quello che sta peggio di lui che viene a chiedere in pratica di vivere in pace, di avere anche un po' di benessere, noi lo vediamo come un nemico perché ci porta via delle cose che noi abbiamo acquisito. Però il problema non sono loro. Il problema non sono loro. Oggi diventa molto facile dire chiudiamo le frontiere. Ma perché non... E noi ultimi? Poi ci cadiamo su questo tranello, no? Per cui diciamo, sì alle barriere, non facciamo entrare... Ma gli emigrati, ma questi sono i nuovi barbari. Nel senso buono la parola, io non ce l'ho niente, anzi assolutamente sarei anch'io il primo a scappare di fronte a quelle situazioni di disastro. però queste creano delle destabilizzazioni e la borghesia, che sono i grandi gruppi che oggi governano attraverso di loro i profitti, vogliono fare i profitti, non sanno come gestire questa situazione. Da una parte allora dicono non si possono chiudere le frontiere, libera circolazione, i diritti umani, dall'altra però questi diritti umani vengono calpestati da chi fa profitti e vende le armi. Mi viene in mente un bellissimo film di Alberto Sordi, no? Finché c'è guerra c'è speranza. Perché è datato questo film, ma se qualcuno lo trova o lo vuole andare a vedere è molto significativo. So che hai dei dati anche, ti hai documentato molto bene su questo, così in questa seconda parte se vogliamo vedere un attimo, fare un piccolo ragionamento. Ecco, questi dati vengono tratti dall'osservatorio permanente sulle armi leggere e politica di sicurezza e difesa di OPAL, si chiama così in abbreviazione. È un'associazione ONLUS e si possono trovare tranquillamente in internet attraverso il sito www.opalbrescia.org. Questa è un'organizzazione che poi, fra l'altro, fanno parte molti gruppi cattolici. Fa nient'altro che prendere i dati, loro lo dicono, prendere i dati dall'ISTAT, quindi li possiamo trovare anche noi nel sito degli ISTAT, li mette assieme e gli dà un senso per capire poi alla fine quanti soldi vengono ricavati, quindi di fatturato, per la vendita di questi armi. E poi tutta la presopopea che ci sta dietro, ma se noi salviamo le fabbriche che fanno armi, salviamo posti di lavoro. Ma questo lo troviamo dappertutto. Allora lo troviamo anche all'interno delle fabbriche che poi hanno creato mostri di ammalati di asbesto, quindi l'amianto all'ilva, e quindi c'è sempre questo binomio, o muori o c'è il lavoro. Invece in realtà va rovesciata questa situazione. Il lavoro dovrebbe essere per vivere, non vivere lavorando. Il lavoro dovrebbe servire per vivere, ma per l'umanità. Però se il lavoro è come è attualmente impostata questa società, queste regole sociali che ci diamo, noi dobbiamo dare, in cambio della nostra forza lavoro, della nostra capacità, ci viene dato una parte di salario, che poi è un'infinitissima parte di quello che guadagnano vendendo il frutto del nostro lavoro. E il frutto del nostro lavoro ci sono anche le armi. Ecco, questo naturalmente va a dimostrare che ci vogliamo bene noi come società, vero? Sì, ma alla fine non sono gli ultimi che si vogliono male. Alla fine, e poi lo vediamo anche le nazioni, che poi sono le nazioni europee, che poi sono la punta del diamante, le contraddizioni all'interno di ogni paese delle aziende. una si fa concorrenza all'altra. Ma gli Stati Uniti d'Europa non sarà mai possibile farlo, ma non ci sarà mai, proprio perché vige sulla concorrenza, su chi frega uno al posto dell'altro. Quindi possiamo dire, come dire, Giovanni, concludere questa prima parte dicendo questa è un'umanità difettata, che ha dei difetti, perché come si fa ad andare avanti in questo modo? Prima o poi collasserà tutto. Possiamo questa prima trasmissione, perché poi ne faremo un'altra, chiudere con un piccolo ragionamento. Abbiamo due minuti. Questa collasserà nel momento in cui, e lo sta succedendo, dove da un mondo finito, cioè la Terra è finita, quelli sono i limiti che hanno la Terra, dall'altra c'è una produzione industriale infinita, che non si può finire. Però stiamo morendo di troppa tecnologia, di troppo mercato, di troppe merci, e questo fa succedere i disastri che stanno avvenendo. Oggi parliamo dell'inquinamento, parliamo del surriscaldamento globale della Terra, ma qualcuno ci sta pensando già a guadagnarci su questo. Quindi ci autodistruggiamo, se noi come specie umana, noi ultimi poi, che non abbiamo niente da difendere nel suo profitto, ma dobbiamo difendere la nostra specie, se noi non riusciamo a cambiare le regole sociali che ci stanno governando. Questo è il problema, di cambiare le regole sociali, di convivenza fra le persone. E chi oggi ha il potere e fa i soldi attraverso questo sistema, che lo dicevo prima, certo non lascerà il potere tranquillamente. Buonasera, siamo qui per il secondo appuntamento di Incontri con la scienza, la ricerca scientifica senza filtri, promossa dagli associazioni culturali Terra Mater e il Sicomoro, qui a Brugnera, in provincia di Pordenone. E abbiamo a ospite il ricercatore documentarista internazionale Pier Giorgio Caria, al quale do il benvenuto per essere qui con noi e dopo il grande riscontro ha avuto anche per questo secondo appuntamento qui in sala. Tema dell'appuntamento, i misteri di Marte. Signor Caria, c'è vita su Marte? Gli indizi e le informazioni che abbiamo da fonte anche NASA, assolutamente sì. Ed è una realtà che già è stata scoperta dallo scienziato americano Levin, Albert Levin, che fu l'idiatore di un particolare esperimento che fu fatto dalle Viking sul suolo marziano, addirittura nel remoto 1976. I risultati di questa prova hanno determinato assolutamente che su Marte il suolo marziano è in grado di sostenere la vita, che c'è attività batterica e quindi assolutamente c'è vita. Tra l'altro l'esperimento che comunque è stato affossato da una campagna di stampa contraria è stato rianalizzato nel 2000 da un altro scienziato americano che ha riconfermato i risultati di Levin e addirittura nel 2012 Levin, in collaborazione con uno scienziato dell'Università di Siena, Giorgio Bianciardi, hanno di nuovo rianalizzato i dati della Viking riconfermando ulteriormente che su Marte assolutamente è possibile la vita. E altre cose, un'intervista che ho mostrato stasera di Frank Bolden, che è il direttore della NASA, intervistato nell'ottobre del 2014 che dichiara molto serenamente che su Marte c'è stata la vita e probabilmente c'è ancora. Io ho mostrato parecchio materiale e oggi anche nel tempo tutto sommato limitato per l'enorme quantità di materiale che esiste e assolutamente si vedono tracce di che su Marte c'è stata vita animale di grandi dimensioni nel passato e anche delle foto dove si evince che c'è vita animale anche oggi, non solo vegetale. Però, siccome è una realtà che la scienza ufficialmente non ammette, invito le persone a fare delle ricerche personali perché comunque su internet si trova tanto. Ho fatto vedere anche la grande menzogna della foto di Marte che ci viene sempre fatta vedere, un Marte brullo, tutto arancione, arido, invece una foto fasulla, taroccata. Se il pubblico che ascolta questa intervista digita su Google Immagini Marte Hubble il telescopio spaziale troverà delle foto di Marte dove si vedono chiaramente i poli ghiacciati si vede l'atmosfera insomma un Marte completamente diverso da quello che solitamente ci viene mostrato. Ci sono state civiltà in passato che hanno abitato il pianeta Marte e di che tipo sono state secondo le sue ricerche? secondo le fonti extraterrestri la civiltà marziana si è estinta nella dimensione nella quale esistiamo noi terza dimensione cento milioni di anni fa a causa di un gravissimo disastro che ha ucciso circa sette miliardi di marziani ci sono i resti archeologici ce ne sono tanti su tante foto della NASA si vedono statue colonne abitazioni c'è veramente un sacco di roba ma ufficialmente questi documenti non vengono presentati quindi su Marte c'era una civiltà e la tipologia razziale era identica ai pelle rosse americani o ai maia cioè la razza rossa abbiamo dei riperti archeologici che dimostrano in maniera abbastanza evidente che anticamente dei piccoli trasbordatori spaziali dei piccoli shuttle vennero sulla terra con a bordo degli astronauti che evidentemente non erano gente terrestre da fonte extraterrestre abbiamo molta informazione tra le quali ci viene detto che Marte è ancora un pianeta abitato ad una evolutissima civiltà che però si trova su un livello frequenziale a noi non percettibile se non in alcuni aspetti ma ci sarebbe tantissimo da dire comunque assolutamente sì per le informazioni che ho io su Marte c'è vita animale vegetale e anche umana secondo lei come mai nonostante la montagna di documenti certificati inopugnabili sull'esistenza di civiltà extraterrestri tutt'oggi nel 2016 l'opinione pubblica in mass media ai quali siamo abituati hanno difficoltà nell'affermare con certezza ripeto nonostante i documenti dell'esistenza di civiltà extraterrestri al di fuori del nostro pianeta terra la realtà della visita extraterrestre al nostro pianeta non è assolutamente un problema scientifico non è un problema di prove perché scientificamente le prove le abbiamo e ce ne abbiamo in una quantità veramente industriale è un problema di potere il potere che ha in mano il mondo e quindi il potere religioso il potere dell'industria bellica il potere delle mafie il potere della politica corrotta il potere dell'industria farmaceutica insomma tutti quei poteri che stanno distruggendo la vita nel nostro mondo non vogliono che noi sappiamo che siamo visitate da razze supercivili che sono fortemente in disaccordo con questa gestione del potere quindi il potere sa che se l'umanità viene in contatto con gli extraterrestri loro hanno perso il primato cioè perdono il potere e non lo vogliono perdere e pur di non perdere il potere sono disposti i potenti del mondo a distruggere la vita sull'intero pianeta questa è la situazione quindi le prove ci sono io sono stato in tanti luoghi Russia Stati Uniti Europa tanti paesi e ho avuto modo di parlare con militari agenti segreti scienziati testimoni eccetera io stesso sono stato numerosissime volte testimone dell'avvistamento di navicelle extraterrestri in Italia e all'estero ne ho viste veramente a decine perché d'altronde quando tu cerchi qualcosa se esiste la trovi e quindi l'occultamento questa censura globale questa coltre di silenzio questa congiura del silenzio che occulta la società civile la presenza extraterrestre è per motivi di potere ora i media i network massivi sono apparentemente tantissimi però di fatto tutti i media del mondo sono in mano a uno strettissimo gruppo di poteri pochissimi meno di dieci quindi ai vertici ci sono poche persone che hanno la capacità di controllare tutta l'informazione che c'è su questo tema e questi poteri non vogliono che sia diffusi però se uno invece di fidarsi delle menzogne del sistema decide di fare una ricerca per conto suo le prove poi le trova io stesso poi fornisco del materiale didattico sono dei libri dove ci sono molti discorsi che fanno gli extraterrestri che spiegano ampiamente il perché loro ci contattano e del perché ancora questo contatto non è pubblico e massivo quindi chi desiderasse avere questo materiale basta che mi manda una mail piergiorgio caria chiocciola gmail.com e io gratuitamente gli manderò questo materiale grazie piergiorgio caria secondo lei è vicino il contatto di queste civiltà extraterrestri con l'umanità secondo i dati che abbiamo sì io credo che nel giro di pochi anni considerando anche la gravissima situazione di crisi internazionale che c'è tra il blocco occidentale Nato e la Russia con dietro la Cina che per adesso è un po' diciamo cerca di fare un gioco super partes però sa benissimo che l'America ha in progetto di distruggerla quindi stiamo vivendo un momento molto pericoloso della storia dell'umanità abbiamo oltre 20.000 testate nucleari pronte a partire o quasi pronti a partire non tutte sono pronte ma basterebbero poche decine di esplosioni nucleari per ridurre a fin di vita l'intera umanità quindi considerando questa situazione grave che potrebbe sfociare nell'arco di un breve tempo in una guerra nucleare generalizzata e sapendo che gli extraterrestri in quel caso atterrerebbero per impedire la distruzione del pianeta allora io credo che il contatto sia sì molto vicino grazie caria alla prossima grazie per averci seguito appuntamento come sempre la prossima settimana stesso canale avete ascoltato pianeta oggi eventi nel mondo a cura di Massimo Bonella in onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper a cura di a cura di